Terapista dello sviluppo ha fatto del suo lavoro una missione, dedicando la sua vita ai bambini con problemi neurologici. È il punto di riferimento di centinaia di famiglie, anche le meno abbienti, e con disagi sociali che vivono il dramma dell'autismo. Si occupa di valutazioni neurologiche funzionali non solo di bambini, ma anche di adulti con celebrolessioni, sindrome genetiche, disturbi dello sviluppo, problemi di apprendimento. Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore 2023 a Manuel Dominguez Alcon.